Da quel San Giuseppe, ogni 19 marzo in Molise la memoria torna a Karol Wojtyla, alla giornata durante la quale sulla collina di Tappino impartì la benedizione ad un sasso. Era il cantiere dal quale di lì a poco nacque il centro di ricerca biomedica della Cattolica, oggi diventata la fondazione che porta il nome del Papa Polacco che 23 anni fa pose la prima pietra della Casa di Cura. Una giornata che il segretario di Stato Pietro Parolin ha voluto ricordare inaugurando un'altra fondazione, quella del Cuore delle Donne, nata proprio da una collaborazione con la fondazione Giovanni Paolo II. Come si fa a dire di no, ha detto il cardinale Parolin, a questa dolce insistenza fatta soprattutto con il cuore. E dunque il numero uno della diplomazia politica della Santa Sede ha accettato di buon cuore, è il caso di dirlo, la presidenza onoraria della neonata fondazione. Questa iniziativa, ha poi aggiunto Parolin, si rivolge alle donne e vuole porre l'accento sui loro problemi, al cuore inteso in senso globale, sia fisico-materiale, ma anche nel calore spirituale. Mi auguro, ha concluso il cardinale, che possa affermarsi sempre più e raggiungere il maggior numero possibile di persone. Parolin è stato accolto a Campobasso dall'arcivescovo Giancarlo Bregantini, assieme al quale ha visitato la Cattolica e ha incontrato i malati nei reparti con i quali si è soffermato a lungo. Poi ha presieduto la concelebrazione eucaristica e dopo la messa ha partecipato al Savoia, alla cerimonia di inaugurazione della fondazione, della quale Cecilia Politi è presidente e Giovanni Scambia presiede il comitato scientifico. Maurizio Guizzardi, presidente della fondazione Giovanni Paolo II, ha invece tracciato un bilancio delle attività del centro che in questi anni, ha detto Guizzardi, ha raggiunto importantissimi risultati dal punto di vista clinico e scientifico. È un patrimonio di questo territorio, ha concluso nel suo intervento, che opera nell'interesse esclusivo della popolazione. La serata si è conclusa con il concerto della cappella musicale Pontificia Sistina, diretta dal maestro Massimo Palombella. All'uscita del teatro Savoia, il freddo pungente, ha ricordato a tutti quella storica mattinata nella quale, festeggiando San Giuseppe Lavoratore, Giovanni Paolo II salì sulla collina Tappino il 19 marzo 1995.